L'HPV, il papillomavirus, è una famiglia composta da circa 120 serotipi. Alcuni sono molto comuni, sono quelli responsabili di provocare le banalissime verrucche, altri invece sono ritenuti oncogeni, cioè sono ritenuti essere e sono correlabili con il tumore del collo dell'utero. Sono 15 i virus ritenuti oncogeni, rispetto a questa famiglia così ampia e così non numerosa. Non è un virus raro, ma un virus estremamente comune, tant'è vero che si calcola che tra l'80 e il 90% delle donne che hanno un'attività sessuale, si contagiano con il papillomavirus, che quindi colpisce sia gli uomini che le donne. Il contagio si ha attraverso il rapporto sessuale e non necessariamente con il rapporto sessuale completo. Anche il rapporto sessuale non completo può determinare il contagio con il papillomavirus. Quindi è un'infezione molto comune. Il tumore della cervice uterina provocato dal papillomavirus invece è raro. È raro soprattutto nei paesi occidentali, nei paesi cioè dove si seguono norme geniche adeguate e dove si fa la profilassi con il test per l'HPV e con il pap test. È un problema questo che è importante nei numeri come causa di mortalità e la seconda causa di morte fra le donne dei paesi poveri, cioè dei paesi dove non c'è accesso alle cure, nei paesi dove c'è non è possibile fare diagnosi precoce. Mentre in Europa e in Italia è tra la settima e ottava causa di tumore e di morte. Quindi non c'è nessuna urgenza nell'intervenire con un programma di vaccinazione come è stato proposto perché non c'è nessun drammatico aumento dei casi e bisognerebbe invece sapere se davvero il vaccino è efficace oppure no. Ora vabbè, il papillomavirus si prende in teoria con i rapporti sessuali. In pratica ci sono anche delle situazioni in cui in realtà il papillomavirus sembra esserci indipendentemente dai rapporti sessuali. Sulla ricerca maschile, devo dire la verità, gli uomini nessuno mai li analizza, per cui non saprei dire. Non ci sono molti studi che dicano se il papilloma ce l'ha anche l'uomo oppure no. Diciamo che sicuramente da quando esistono i test genetici per evidenziare il papillomavirus sono aumentate molto le ricerche in questo campo. Diciamo che i papilloma, quelli che vengono considerati ad alto rischio, cioè quei papillomi e quei virus che tendono a produrre poi il cancro al collo dell'utero, sono un tot di numeri e sono sempre in espansione, cioè ci sono sempre più genotipi che producono tumori. E una parte invece di papillomi che vengono considerati a basso rischio. Quindi la tipizzazione virale che viene fatta per valutare papilloma per papilloma, se è quelli ad alto rischio o a basso rischio. In realtà la percentuale di donne con i papillomi è altissima e la percentuale di donne che poi sviluppano davvero il cancro invece è molto bassa. Quindi diciamo questa correlazione fra HPV e tumori è una correlazione ma non così fondamentale. In realtà se le donne fanno regolarmente un pap test ogni tre anni, siamo sicuri che abbiano il papillomavirus o che non ce l'abbiano. Quando comincia una piccola alterazione cellulare a quel punto si farà in tempo a fare una cura omiopatica se uno vuole o laser se uno vuole, ma comunque a fare una vera prevenzione del tumore. Quindi diciamo il sapere se c'è l'HPV o no, boh, sì, può essere importante, ma insomma facciamo il pap test che è sufficiente. La vaccinazione è stata introdotta in Italia in base a una campagna che ha visto come sponsor le stesse multinazionali del farmaco che producono i vaccini ed è stata lanciata con uno slogan, previeni il tumore del collo dell'utero. Mai affermazione è stata più falsa di questa perché a oggi non è possibile dire che il vaccino funzioni nel prevenire il tumore del collo dell'utero per tanti motivi. Il più semplice è che non è stato soddisfatto il criterio cronologico perché tra contagio, contatto quindi con un virus potenzialmente oncogeno e il sviluppo della malattia occorrono in genere 20-25 anni di tempo. Questi 25 anni di tempo non sono trascorsi, quindi non è possibile dire che il vaccino funzioni nel prevenire il tumore del collo dell'utero. Quello che si può dire è che per due dei 15 virus oncogeni, soltanto per due, si è stato visto essere capace di ridurre alcune lesioni precancerose. Queste lesioni precancerose, peraltro, nel tante per cento dei casi si riducono spontaneamente, non necessariamente la lesione precancerosa evolve in un tumore. Quello che è importante è eseguire regolarmente il pap test, tant'è vero che anche nel fogliotto gustativo del farmaco c'è scritto che la vaccinazione non sostituisce la buona pratica del pap test. Quindi il pap test ogni tre anni è importante. Il vaccino può ridurre il rischio di lesioni precancerose, ma non in maniera determinante, perché si calcola che in uno studio che si dice in tension to treat, cioè negli studi di quello che avviene realmente alla popolazione, l'epicacia per le lesioni precancerose di tipo terzo, quello che si chiama CIN3, è soltanto del 46%, è stimato soltanto del 46%. Comunque, generalmente, le donne entrano a contatto con il papilloma virus e poi il loro sistema immunitario permette di eliminarlo senza sviluppare la malattia. È chiaro che se invece iniziano ad esserci una serie di lesioni, che si rivelano con il pap test, si può intervenire con degli interventi che non sono distruenti, non sono interventi oggi vere e proprie, che si chiamano iconizzazione e bloccare quindi l'evoluzione di questa patologia. Questo al di là dell'efficacia del vaccino. Il vaccino, peraltro, non ha ancora quindi dimostrato quello che è il suo vero obiettivo, di prevenire il tumore. Quindi questa è una formazione di propaganda. Il vaccino, peraltro, ha numerosi effetti collaterali e molte reazioni avverse, tant'è che in molti paesi è stata richiesta la sospensione del loro uso, come per esempio in Giappone, e recentemente anche più di un migliaio di medici in Francia hanno scritto una lettera perché venga sospesa la somministrazione del vaccino. Quindi bisogna tenere conto, come per tutte le vaccinazioni, del riscontro positivo e oggi non abbiamo prove d'efficacia su quello che è davvero la prevenzione del tumore dell'utero e il rischio della reazione avverse che sembra essere molto elevato. Il vaccino viene somministrato alle ragazze ai 12 anni. Viene somministrato a questa età qui perché è importante, perché funziona, è importante che si pratichi prima dell'inizio dell'attività sessuale, perché, e c'è scritto sempre la scheda tecnica del farmaco, non ha nessuna efficacia quando invece è iniziata l'attività sessuale e presumibilmente c'è stata l'infezione con il papillomavirus. Per questo non hanno senso quelle iniziative che propagandano e propongono la vaccinazione in donne di 19, 20, 25 anni, quando l'attività sessuale è già iniziata o addirittura hanno già fatto dei figli. In Finlandia hanno preso un grosso campione di popolazione e l'hanno vaccinato contro il papillomavirus. Un gruppo altrettanto numeroso è stato vaccinato con il vaccino contro l'epatite A e un gruppo altrettanto numeroso è stato proposto soltanto un placebo. Gli autori di questo studio hanno detto che forniranno le risposte nel 2020 e che fin tanto che non ci saranno queste risposte è soltanto un tirare a indovinare, cioè non si possono avere elementi scientifici certi per capire se il vaccino funziona oppure no. Il vaccino viene prescritto alle ragazze prima che abbiano i primi rapporti sessuali, quindi all'inizio, un po' di anni fa, si diceva che bisognava farlo prima dei 15 anni, ora si sono accorti che le ragazze fanno l'amore prima, quindi lo fanno fare a 12. Una volta che uno ha fatto il vaccino resta coperto per 5 anni, quindi se poi uno fa l'amore a 18 anni ha fatto il vaccino per nulla, per cui non serve a niente. Se poi uno fa l'amore con un preservativo ha già risolto il suo problema, oltre che non resta incinta non prende neanche l'HPV. Dal punto di vista della ripetizione del vaccino dopo 5 anni gli studi non sono molto chiari, così come non è molto chiaro si funziona anche nelle ragazze che hanno già avuto un inizio di rapporti. Diciamo che è stato molto spinto dalle ditte farmaceutiche perché chiaramente hanno guadagnato parecchio e però una reale efficacia su questo vaccino sinceramente io non la vedo. Devo dire che anche i miei colleghi ginecologi spesso non hanno fatto vicinare alle proprie figlie, questo vuol dire molto. Quindi diciamo che è un vaccino secondo me veramente al di là del problema vaccini e di quanto fanno male i vaccini, ma senza neanche entrare nel discorso sui vaccini in genere, devo dire che mi sembra una vaccinazione inutile, visto che è sufficiente fare ovviamente una buona educazione sessuale alle ragazze, una prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e un controllo regolare con il pap test. Per me sembra che sia molto più semplice e molto meno rischioso, visto che tra l'altro le nostre figlie, perché diciamo è stato proposto 5-6 anni fa, le nostre figlie sono quelle che faranno da cavia e quindi le ragazzine che hanno cominciato a fare il vaccino cinque anni fa sono quelle che poi si vedrà fra dieci anni, vent'anni, trent'anni, se gli avrà fatto bene o male. Per cui insomma, non so se è il caso. Come per tutte le cose, non esiste una cosa specifica se non norme igieniche, è chiaro che l'igiene è importante anche in questi casi, poi si è visto essere correlato o l'insergenza del tumore per esempio col fumo, ci sono studi controversi sull'uso della pillola anticoncezionale, ma è chiaro che bisogna rafforzare il sistema immunitario sempre con l'alimentazione adeguata con la stile di vita corretto. Allora, il fatto innanzitutto che le donne siano il 70-80% di donne abbiano l'HPV dimostra anche che probabilmente noi conviviamo con l'HPV, visto che non è il 70% di donne che sono malate, quindi diciamo che c'è una sovradiagnosi, c'è una tendenza a trovare l'HPV sempre, tanto è vero che fino a 7-8 anni fa, anche alla ASL, quando c'era un pap test con l'HPV veniva consigliato subito la bruciatura, ora dicono controllo a 6 mesi e poi continuano controllo altri 6 mesi perché hanno capito che non possono fare un trattamento a tutti, visto che la percentuale è così alta. Quindi il vero lavoro è il lavoro preventivo sul nostro benessere psicofisico, quindi a livello se ho davvero un HPV a rischio, allora posso anche fare una cura omiopatica o capire se ho dei disagi emotivi nei confronti della sessualità, piuttosto che del partner, piuttosto che della femminilità, visto che in quella zona lì posso migliorare l'alimentazione, se ho un HPV a basso rischio posso solo pensare che è una sovradiagnosi e non mi importa nulla, faccio i miei controlli ginecologici e vedo se va via da solo come in genere fa. Quindi diciamo lavoro sul sistema immunitario nel senso del benessere psicofisico con un rimedio miopatico piuttosto che con una qualsiasi tecnica olistica. Sì, è effettivamente imbarazzante a volte perché io vedo ragazzine di 12 anni che vengono in ambulatorio con la bar di per mano e calzettoni corti e pensare di dover spiegare che devono fare un vaccino perché possono subire un'infezione quando ho un rapporto sessuale a ragazzine di questa età qui è davvero difficile. Purtroppo in Italia non abbiamo servizi adeguati per adolescenti, ambulatori per adolescenti che richiedono posti separati da quelli per i bambini e competenze multidisciplinari ce ne sono davvero poche, sono veramente un'eccezione nel nostro paese. L'unica proposta che si fa è quella di un vaccino eseguito in questi termini, guarda caso, negli stessi ambulatori dove si vaccina i dati bambini. Invece ci vorrebbero strutture dedicate proprio agli adolescenti perché la problematica dell'adolescente è differente da quella del bambino e soprattutto dobbiamo essere chiari sul messaggio che gli si dà perché altrimenti c'è il rischio di far passare l'idea che avere un rapporto sessuale significa contrarre una malattia, quindi il sesso visto come fonte di malattia e non come relazione affettiva importante è fonte invece di comunicazione e trasmissione un rapporto con un'altra persona, con un partner che si sceglie, ecco si vuol dire. Diciamo già sulla sessualità c'è un gran pasticcio, quindi diciamo già c'è tutta la difficoltà per gli adolescenti di accedere a un percorso emozionale e non a una sessualità vissuta come la si vede semplicemente nei film. Ho fatto recentemente delle conferenze appunto sulla sessualità negli adolescenti e quindi sicuramente in questo caso c'è la medicalizzazione della sessualità ma soprattutto si aggrava la spersonalizzazione perché la sessualità ormai per le ragazze è una cosa che vedono, che vogliono imitare, che è una cosa come dire un po' al di fuori della relazione, dell'empatia, del rapporto col proprio corpo. È una società molto visiva, quindi loro diciamo ormai appunto su internet vedono tutto, si aspettano di ottenere delle cose ben precise dal loro corpo e vogliono che si ottengano le stesse cose che vedono nei filmati. Non c'è una maturità emotiva, arriva una maturità sessuale precocissima senza la maturità emotiva relazionale e abbinata perché appunto parte prima la sessualità dell'innamoramento e quindi c'è uno spasiamento nella nostra, quindi in questo caso c'è anche una medicalizzazione ma comunque c'è una depersonalizzazione in cui le ragazze hanno delle aspettative su di te, arrivano a 15 anni dicendomi ma come io non ho l'orgasmo vaginale, io voglio l'orgasmo fatto così però io non vengo come vorrei, però io ci impiego troppo. Non hanno la sensazione del percorso di crescita, nella relazione e nella sessualità, hanno un imprinting di performance che devono ottenere le donne, poi immagino gli uomini sarà ancora peggio, però io non li vedo, non lo so, però diciamo per le donne e per le ragazze è sicuramente un gran problema.